Grande fratello, Patrizia Salatino, non ragionare col cervello, ragiona anche col cuore. All'interno della casa del grande fratello VIP7, nonostante vari tentativi per giungere a un chiarimento, Luca Salatino e Charlie Gnocchi non sono ancora riusciti a fare pace. Nelle scorse ore Patrizia Rossetti ha incontrato in cucina sia l'extronista di Uomini e Donne che lo speaker radiofonico e ne ha approfittato per esprimere il proprio pensiero sul loro rapporto. Patrizia Rossetti ha parlato con Luca Salatino, secondo la conduttrice non è mai certo se ciò che si crea nelle reality possa essere definito come una vera amicizia. Quando, però, si avverte una certa simpatia per qualcuno, ciò rappresenta il primo segnare di un rapporto possibile. La 63enne ha detto che gli scontri sono presenti anche nelle vere amicizie storiche. Ciò nonostante se vi sono i sentimenti, essi possono superare tutti gli ostacoli. Insomma, Patrizia Rossetti è convinta che se Luca e Charlie Gnocchi sono uniti da un affetto reciproco, non dovrebbero gettare quello che hanno costruito sin qui nel corso della loro avventura nel grande fratello VIP7. Luca Salatino non è sembrato d'accordo con l'opinione espressa da Patrizia Rossetti. Secondo l'extronista di Uomini e Donne, infatti, in alcune circostanze finiscono per crearsi degli strappi nei rapporti, che poi risultano irreparabili. Per Luca, anche se vi sono dei sentimenti, questi non hanno il potere di colmare alcune mancanze. A quel punto, la 63enne, ha invitato Salatino e Charlie Gnocchi a chiarirsi e trovare un modo per riappacificarsi. Secondo la conduttrice se il romano non fosse stato influenzato da alcuni commenti effettuate dagli altri coinquilini. Probabilmente si sarebbe già riavvicinato allo speaker radiofonico. Ma Luca Salatino è rimasto ancora una volta perplesso dopo le parole della Geffina. Secondo lui, infatti è ciò che avverte nei riguardi di Charlie a dividerli e non le varie divergenze di pensiero. Patrizia Rossetti ha voluto donare un consiglio a Luca Salatino, non ragionare solo col cervello. Ragiona anche con il cuore. Se i due si vogliono bene, secondo la conduttrice, troveranno la maniera di risolvere i loro problemi e andare o tre. L'extronista di Uomini e Donne è apparso, invece, quasi rassegnato, affermando di non riuscire a dimenticare. Mentre Charlie Gnocchi ha dato ragione a Patrizia.